Riprendiamo con le notizie dal territorio, gli autotrasportatori della provincia di Foggia protestano contro il rincaro del gasolio, non è più una situazione sostenibile, affermano, serve un immediato intervento del governo, li ha intervistati per noi. Oggi siamo qui tutti raccolti, tutti insieme, gli autotrasportatori per manifestare il nostro primo disagio enorme a livello nazionale che è il gasolio. Gli autotrasportatori della provincia di Foggia in protesta sulla statale 16 contro i rincari del gasolio, una manifestazione per evidenziare anche a livello locale la drammatica situazione generata non solo dall'aumento del prezzo del gasolio salito alle stelle, ma anche degli additivi per ridurre le emissioni di CO2, dei pneumatici e del pedaggio autostradale che hanno determinato un'emergenza non più sostenibile senza adeguati e immediati interventi da parte del governo, a sostegno di un comparto già duramente provato anche da altre problematiche come la carenza di autisti, una concorrenza selvaggia che vanifica il rispetto dei tariffari minimi per ogni chilometro di percorrenza, i continui cantieri lungo la rete autostradale che producono ritardi e la sicurezza sulle strade. Oggi per andare avanti con la pressione fiscale che abbiamo dovremmo avere almeno un euro il gasolio, almeno un euro, se no dobbiamo fare un trattato con gli arcisi, come Confindustria che fa con le miniere, lo sgrave del 70% sui gasolio che consumano, quindi alla fine dei conti noi dovremmo togliere almeno i 70 centesimi da sopra quello che è il nostro costo aggiuntivo. Poi insieme a quello ci stanno i rincarichi, ci sta da parte delle officine, pezzi di ricambio, comprare un veicolo oggi costa il 20-30% in più a quello che era 4-5 mesi fa e a fin dei conti è diventato insostenibile. Restiamo in tema, Bari chiama il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, nei prossimi giorni torna a riunirsi la task force regionale sulle vertenze che mettono a rischio 5.000 posti di lavoro solo nella zona industriale del capologo pugliese Antonio Bucci. È stato aperto un tavolo in task force regionale, dovremmo incontrarci a fine mese perché abbiamo fatto una richiesta al ministero sia a Giorgetti come presidente della task force e anche come organizzazioni nazionali. Si prevede che questa data da voci di corridoio dovrebbe essere il primo marzo. È chiaro che se non arriva la data i metalmeccanici faranno sentire la propria voce. Bosch è soltanto la punta dell'iceberg che però si vede neppure troppo all'orizzonte. Tiene così il punto sulla crisi dell'automotive nel barese Riccardo Falcetta della Wilm Puglia nello scorso fine settimana all'intervento del nazionale di categoria per tenere accesi i riflettori su una crisi che mette a rischio 5.000 posti di lavoro soltanto nella zona industriale tra Bari e Modugno. Bosch è l'annuncio di 700 esuberi e soltanto un pezzo della questione ma vale anche per Marelli per la quale dal sindacato contano oltre il 60% di lavoratori occupati in linee di produzione legati a motore a benzina per le quali peraltro non sarebbe stata esclusa la delocalizzazione. L'ultima novità sul frontex OM invece riguarda il cronoprogramma relativo alla realizzazione della riconversione del capannone in un impianto di riciclo come da progetto è relativo dunque anche alle assunzioni delle 128 unità promesse. Il Bosch ha annunciato che metterà a disposizione 2 miliardi per la formazione dei dipendenti noi oggi pretendiamo con le istituzioni insieme che venga ridata la dignità a quei lavoratori. Andiamo avanti con la cronaca potrebbe essere stato un vero e proprio summit criminale quello che si è tenuto a Modugno tra quattro uomini tutti pregiudicati e scoperto dai carabinieri. Avevano appena finito una riunione forse organizzativa di attività criminali in casa di un pregiudicato che era agli arresti domiciliari nel centro storico di Modugno nel Barese e uscendo dall'abitazione avrebbero tentato di disfarsi di una pistola carica e di droga nascondendosi su un terrazzo. In quattro sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri. Si tratta di un 41enne detenuto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella casa dove si era tenuta la riunione e dove da tempo i militari avevano notato un continuo via vai di persone. Oltre a lui sono stati arrestati il fratello 32enne e un 49enne arrestato nei giorni scorsi anche per l'attentato con un ordigno esploso all'ingresso di un locale in vendita e un 21enne tutti con precedenti penali per droga e ora detenuti in carcere. I carabinieri durante uno dei servizi di osservazione della casa hanno circondato l'abitazione bloccando il 41enne mentre si allontanava. I militari hanno poi suonato al citofono e in quel momento altri due si sono nascosti sul terrazzo. I gnari di essere osservati da lontano uno dei due avrebbe lanciato in un terrazzo limitrofo una busta contenente una pistola calibro 7,65 con 5 colpi. Anche il 41enne avrebbe tentato di disfarsi di un involucro gettandolo dal balcone un normale pacchetto di fazzoletti con 32 dosi di cocaina. Un agente della polizia locale di Bari è morto dopo essersi sparato alla testa con una pistola di ordinanza all'interno della sede del comando nel quartiere di Iapigia. L'uomo, 45 anni, si sarebbe sparato a fine turno e è stato soccorso dai colleghi che hanno sentito lo sparo e sono accorsi nel suo ufficio. È deceduto poco dopo nel policlinico di Bari. Della vicenda è stata informata l'autorità giudiziaria e sono in corso i relativi accertamenti. Restiamo nel capologo pugliese perché a quanto pare le baby gang sono ancora in azione. Tantissime le risse, ce ne parla l'area del vino. Ancora risse tra giovanissimi nel barese. A Bari un gruppo di ragazzini è stato cerchiato all'uscita da un locale nel Borgo Antico. Molestati, spintonati e presi a calci è il racconto di una madre al sindaco di Bari Antonio De Caro. Il figlio della donna è uno dei 17 anni che sarebbero stati aggrediti sabato sera. I ragazzi hanno accelerato il passo cercando di raggiungere il corso, ma subito sarebbero stati affiancati e incitati dai ragazzi più grandi e due di loro avrebbero ricevuto un calcio alla testa. Non hanno reagito per paura, spiega la donna, poi fortunatamente sono riusciti a raggiungere Corso Vittorio Emanuele. Un altro sabato violento, anche a Bitonto, poco più a nord di Bari. In piazza cattedrale due ragazzi si sarebbero scontrati prima verbalmente, poi la lite sarebbe degenerata. Gli amici dei due avrebbero poi cercato di placare la rissa, ma soltanto l'arrivo della polizia, allertata dai passanti, li ha fatti dileguare per i vicoli del centro storico. La pressione dei cittadini si sta trasformando velocemente in paura e il rinnovato appello è sempre quello di intensificare i controlli e aumentare il presidio delle forze dell'ordine sul territorio. La politica PD di nuovo a confronto dopo il faccia a faccia con il governatore di una settimana fa, gruppo chiamato a discutere la proposta di uscita dalla giunta dopo il rimpasto sullo sfondo, le manovre per il congresso e la proposta di primarie aperte per la segreteria. E' di nuovo vigilia per il Partito Democratico pugliese a una settimana dal faccia a faccia, la presenza del governatore dopo il rimpasto, il gruppo PD torna a riunirsi, stavolta senza Stato Maggiore ma con il segretario regionale. Sul tavolo resta la proposta del Presidente della Commissione Bilancio, Fabiano Amati, di ritirare gli assessori dalla giunta, riassume il malessere ancora forte che scuota le federazioni per la promozione di Roccopalese a titolare della Sanità e così sarà la pattuglia in via gentile ora doversi esprimere sull'ipotesi, quantomeno per marcare le posizioni al suo interno. Più facile che si chieda una verifica politica, punto per punto, delega per delega, potrebbe essere l'elemento di convergenza tra le varie anime. Poi toccherà pensare anche al congresso, congelato e consegnato nelle mani di un commissario con il compito di riscriverne le regole. Marco Lacarra, numero uno uscente di Viare Davide, deputato barese, ha provato a sparigliare proponendo primarie aperte per la scelta del suo successore, raccogliendo l'adesione dello stesso Amati che le aveva votate già la scorsa estate. Ma c'è una parte dei dem che diffida riportando alla memoria i rischi di truppe destrorse all'esterno dei seggi con il doppio vulnos spiegano di non valorizzare gli iscritti. Primarie aperte per la scelta del primo cittadino ma anche voci di accordi bipartisan sulle comunali di Barletta. L'allarme del dem Ruggero Mennea incognita canito per la candidatura in campo dell'ex primo cittadino. Primarie aperte per la scelta del candidato sindaco e vertici del partito in campo per sbrogliare la matassa. Il dem Ruggero Mennea prova ad accelerare così sulle prossime comunali di Barletta. D'altro canto, stavolta non si dovrebbe attendere l'autunno per vedere schiudersi le urne e così il consigliere regionale punta il dito contro il centro-sinistra. Non fa nomi, ma denuncia le voci che vorrebbero in luoghi impropri e lontani dal centro della BAT la decisione sul candidato da schierare per la fascia tricolore eppure sulla futura coalizione che sarebbe composta anche da forze del centro-destra. La stessa situazione si starebbe verificando anche nella vicina canosa denuncia mettendo in guardia contro il rischio di finire alle prese con l'imposizione dall'alto di candidati mediocri o peggio, fantoccio e senza reale condivisione da parte delle forze sane della città. Un vero e proprio commissariamento insomma del PD come della politica barlettana in toto secondo l'analisi del consigliere. In campo, già dallo scorso autunno ci sarebbe anche Vino Cannito primo cittadino uscente che aveva dato la propria disponibilità al BIS dopo la sfiducia in aula a patto di ripartire da un nucleo rigorosamente a trazione civica una parte del centro-destra era parsa ad un passo dallo stringersi intorno a lui ma con o senza simboli soltanto uno degli interrogativi ancora lontani dallo scioglimento. Siamo nella BAT perché il sindaco di Andrea Giovanna Bruno punta il dito contro le attività abusive proprio per oggi per la festa di San Valentino una strada del centro storico federiciano è stata decorata per il giorno degli innamorati però senza che ci siano i permessi sentiamo Antonio Gargano. La festa di San Valentino non può far passare in secondo piano il rispetto di leggi e procedure è questo il commento del sindaco di Andrea Giovanna Bruno dopo che una strada cittadina è stata decorata per il giorno degli innamorati senza però chiedere i permessi necessari per l'occupazione del suolo pubblico. è stata montata tutta una storia che riguarda una stradina del nostro centro storico abbellita devo dire in maniera egregia da un proprietario da un residente ma purtroppo su quella stradina ci sono dei problemi che qualcun altro omette volutamente di rappresentare e di raccontare. Immaginate se qualcuno di voi sotto casa quindi sotto la propria abitazione abitazione a cui si accede da una strada pubblica si vedesse oggi piazzato un tavolino domani una panchina dopo domani un albero l'altro domani ancora altri suppellettili belle non belle questo è discutibile ma il problema è che se non c'è l'accordo di tutti e soprattutto se non c'è l'occupazione di suolo pubblico prevista e garantita ovviamente non si può fare nulla di tutto questo. Per il primo cittadino c'è ancora tanto lavoro da fare per dare il giusto valore al rispetto delle regole il caso legato al giorno di San Valentino ha evidenziato la questione che però va affrontata anche nel quotidiano come dimostrano episodi già accaduti in passato le regole le leggi non si rispettano ad intermittenza ci sono e vanno applicate ci sono e vanno rispettate in questa città per tanto troppo tempo le regole non sono state rispettate e noi invece abbiamo il compito siamo stati eletti per questo abbiamo il compito di cominciare pian piano a far rispettare le norme opere pubbliche iniziati i lavori al parco Lama Cappuccini a Bisceglie la più grande area verde della città in stato di abbandono e degrado da tanto tempo tornerà a rivivere aumenta il verde pubblico a Bisceglie sono cominciati i lavori per il recupero e la valorizzazione funzionale del parco di Lama Cappuccini nella parte retrostante al parco Unità d'Italia l'intervento arriva con un finanziamento di 150.000 euro ottenuto dall'amministrazione Angarano e messo a disposizione dalla regione Puglia attraverso un bando del GAL Ponte Lama i lavori prevedono la bonifica e il recupero dell'area la messa in sicurezza il miglioramento degli accessi anche per persone con disabilità la realizzazione di orti urbani e di camminamenti in legno per raggiungerli agevolmente si provvederà inoltre all'impianto di illuminazione a led a basso consumo energetico ogni intervento sarà realizzato si precisa nel pieno rispetto delle caratteristiche delle valenze storico-naturalistiche e ambientali dell'area avendo cura nell'utilizzo di materiali ecocompatibili e con un approccio sostenibile di concerto con l'assessorato alle manutenzioni coordinato da Natale Parisi ha detto il sindaco Angela Antonio Angarano daremo nuova vita e metteremo a disposizione della comunità un autentico polmone verde nel centro cittadino riqualificando un'area bellissima che però versava in stato di abbandono e degrado da molti anni ha spiegato il sindaco con lo stesso finanziamento si realizzeranno anche servizi igienici nel giardino botanico Veneziani Sant'Antonio e si interverrà per migliorare il parchetto di Via Verdi restiamo proprio a Bisceglie dove la città ha varato il suo piano coste e un documento strategico che si attendeva da più di dieci anni Bisceglie e il suo piano coste il documento atteso da oltre dieci anni è stato approvato in giunta comunale un piano strategico per lo sviluppo armonico della costa e la valorizzazione del mare che definisce l'assetto la gestione il controllo e il monitoraggio della fascia demaniale marittima in termini di tutela del paesaggio salvaguardia dell'ambiente recupero e risanamento costiero insieme alla garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico all'interno dell'area demaniale si definiscono in questo modo una serie di azioni coordinate per la protezione e la gestione dell'ecosistema costiero lo strumento comprende mobilità welfare urbano e sviluppo socio-produttivo si tratta spiega il sindaco Angarano di individuare anche nuove opportunità di investimento mirate al potenziamento dei servizi lungo tutta la costa il percorso era stato già intrapreso gli scorsi anni e questo ha portato a Bisceglie la doppia bandiera blu nel 2021 sia per due tratti di costa che per il porto un altro importante tassello in un processo di adozione degli strumenti amministrativi idonei per governare correttamente in maniera oculata con direttrici chiare in totale trasparenza tiene a sottolineare il primo cittadino di Bisceglie il piano coste giunge dopo il documento strategico del commercio approvato anche quest'ultimo dopo un'attesa di oltre 15 anni adesso l'amministrazione lavora anche al piano urbanistico generale che consentirà di superare il piano regolatore attualmente in uso ma risalente agli anni 70 un lavoro lungo e paziente che guarda le prossime generazioni consentendo di pianificare una crescita mirata della città torniamo a Bari perché potrebbe essere abbattuta entro l'estate la struttura dell'ex ristorante l'Ancora di Palese ad annunciarlo il presidente del quinto municipio Brandi vediamo obiettivo demolirlo entro l'estate l'edificio dell'ex Ancora sul lungomare di Palese continua a far discutere da quando la struttura è stata data alle fiamme si è trasformata in un ricettacolo di rifiuti di ogni tipo una vera e propria discarica a cielo aperto resa pericolosa anche dalla presenza di transenne che rendono difficoltoso anche il transito di pedoni e ciclisti ma adesso a rassicurare i cittadini stanchi di questa situazione di degrado arrivano le rassicurazioni del presidente del quinto municipio Vincenzo Brandi che conferma ci sono tanti problemi connessi alla realizzazione dei progetti relativi all'ex Ancora ma entro l'estate la struttura potrebbe essere abbattuta la struttura è stata data alle fiamme due volte a giugno del 2019 pochi giorni dopo la scadenza del bando comunale per l'affidamento e nell'ottobre del 2020 quando per spegnere le fiamme ci vogliono e nell'ottobre del 2020 quando per spegnere le fiamme ci vuole oltre mezza giornata il comune e il quinto municipio avevano più volte pianificato una nuova vita per l'edificio fiore all'occhiello della ristorazione palesina per più di un ventegno ma il secondo incendio pare abbia spento anche ogni possibilità di recupero di cui la decisione di abbattere l'edificio entro la prossima estate Cambiamo argomento la fiera del Levante riapre i battenti ed è pronta a ripartire dal tempo libero Expo Levante in agenda nell'ultima settimana di aprile preceduta da Enoli Expo prove generali per la campionaria di settembre La fiera del Levante è pronta a riaprire i battenti sono rimasti chiusi anche a settembre derogando al tradizionale appuntamento che apre la stagione politica ed economica dopo la pausa per le ferie estive si riparte da quattro giorni di Expo Levante che poi vuol dire prove generali anche per la campionaria 2022 la finestra è quella dell'ultima settimana di aprile con esposizioni eventi iniziative dedicate al tempo libero tornano gli arredi per il giardino ma pure le auto d'epoca e i dispositivi per la mobilità elettrica a rimettere in moto la macchina sarà già a marzo di al 10 al 12 per la precisione Enoli Expo dedicato agli operatori del settore dell'olio e del vino con macchinari tecnologie d'avanguardia e la proposta di servizi dedicati al comparto un segnale soprattutto per dimostrare che la caravella ha già le vele spiegate ed è pronta a riprendere il mare lo farà con l'appuntamento settembrino previsto dal 10 al 17 del nono mese dell'anno dopo il black house dovuto alle difficoltà delle aziende post restrizioni mancanza di materie prime eppure di prodotti disponibili altra variabile è quella legata agli spazi attualmente occupati dal covid ospita dopo la fine dello stato di emergenza ma questa è un'altra storia cambiamo decisamente argomento perché fa ancora discutere la tela religiosa esposta nella cattedrale di Canosa per celebrare l'incontro fra San Sabino e San Benedetto l'opera religiosa nell'opera religiosa è stato raffigurato il presidente di Confindustria Sergio Fontana che ha commissionato la realizzazione del dipinto con lui anche il parroco della cattedrale adesso a quanto pare l'artista tranese che lo ha realizzato sta per cambiare l'opera tiene banco ormai da diversi giorni il caso della raffigurazione religiosa esposta nella cattedrale di Canosa nell'opera commissionata dalla fondazione archeologica Canosina e da Confindustria Puglia è stato dipinto l'incontro tra San Sabino patrono della città e San Benedetto che in vita sarebbero stati amici tra le figure che però circondano i due santi sono stati raffigurati anche il presidente di Confindustria Baribat Sergio Fontana Canosino di nascita rappresentato qui con tanto di mascherina e Don Felice Bacco parroco della stessa cattedrale l'artista che ha lavorato alla tela è il tranese Antonio Lomuscio il cui talento è già riconosciuto in numerosi ambienti artistici italiani nonostante le motivazioni adotte dal pittore legate alla consuetudine di omaggiare il committente restano vive le polemiche poiché nella somma partuita per l'opera sarebbe entrata in scena proprio Confindustria Puglia Lomuscio in ogni caso è al lavoro a Canosa per effettuare delle modifiche all'opera con delle variazioni che non sono state ancora comunicate e che verranno svelate in una presentazione bis della tela stavolta probabilmente senza omaggio ai committenti da qualche giorno invece campeggiano in bella mostra sotto il ponte adriatico del capologo pugliese sulla testa degli skater che ogni giorno affollano il playground delle scarpe appese dai lacci il fenomeno si chiama show feats arte o vandalismo vediamo arte di strada o vandalismo da qualche giorno sotto il ponte adriatico del quartiere libertà di Bari proprio sulla testa dei tanti ragazzi che ogni giorno affollano lo skate park del playground sono apparse delle scarpe appese alle travi dell'imponente struttura che collega l'asse nord-sud a via della carboneria di cosa si tratta? il fenomeno è meglio conosciuto come show feats una forma di espressione della cultura underground nata negli USA e è considerata al confine tra arte di strada e vandalismo il lancio delle scarpe legate tra di loro con i lacci prende il nome dall'unione delle parole show scarpa e graffiti nato negli Stati Uniti negli anni 90 al pari dei murales e così la domanda sorge spontanea possono delle scarpe legate tra loro e lanciate per aria nella speranza che restino attorcigliato ad un palo ad un filo essere una forma d'arte? la risposta potrebbe essere sì se si leggesse il contesto in cui questo attacco d'arte viene fatto e nel nostro caso si tratta di uno skate park punto di ritrovo per gli appassionati di acrobazie e sulla tavola l'area tra l'altro è stata già in passato oggetto di quesiti simili considerando che un paio di mesi fa le varie rampe furono prese d'assalto da writers che le dipinsero più come atto vandalico che come forma d'arte ciò portò l'amministrazione comunale a prendere provvedimenti ovvero ingaggiare artisti del settore per abbellire la zona grigia e così in attesa di capire se schierarsi dalla parte della cultura underground o quella del decoro urbano le scarpe restano lì a penzoloni sulle travi del ponte adriatico a Trani è attivo un ambulatorio di cardiologia pediatrica oggi infatti ricorre la giornata mondiale delle cardiopatie congeniche è fondamentale monitorare le cardiologie le patologie cardiache scusate che si sviluppano nelle prime settimane della vita embrionale diagnosi precoce e prevenzione degli eventi avversi ma anche attenzione alla presa in carico e monitoraggio nella giornata mondiale delle cardiopatie congenite l'attenzione si pone su quelle patologie cardiache che si sviluppano nelle prime settimane di vita embrionale in Italia si stima che ogni anno circa 8 neonati su 1000 risultino portatori di una cardiopatia congenita nel poliambulatorio del presidio territoriale di assistenza di Trani è attivo un importante centro di cardiologia congenita diretto dal dottor Pierluigi Russo che insieme all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari è oggi considerato un punto di riferimento regionale tra gli obiettivi più importanti quello della diagnosi precoce anche attraverso lo stretto rapporto con i pediatri del territorio e con l'ambulatorio di medicina dello sport la collaborazione con i pediatri di libera scelta è fondamentale dice il dottor Russo sono loro infatti a individuare e segnalare situazioni anomale o dubbie che necessitano di approfondimenti diagnostici le cardiopatie congenite rappresentano un gruppo eterogeneo di patologie caratterizzate da alterazioni strutturali del cuore e dei grossi vasi causate da anomalie di formazione e sviluppo durante le prime settimane della vita embrionale anche il momento in cui il bambino si affaccia al mondo dello sport può essere importante per verificare attraverso esami specifici ed ecografie la presenza di eventuali anomalie la collaborazione con la medicina dello sport diventa dunque strategica e indispensabile è tutto grazie per averci seguito buon proseguimento di giornata grazie per aver guardato